Tutto per gli aggiornamenti, la seconda parte della rassegna stampa adesso. Grazie, grazie Lorenzo. Andiamo prima a Milano. Filippo, Natascia, buongiorno. Buongiorno, Roberto. Buongiorno, eccoci qua. È facile dire Milano, poi però guarda qui cosa succede. Cosa succede? Intanto non vi vediamo. Ecco qui qua. Ecco, al nord soprattutto pioggia, soprattutto temporali ed è un po' la metafora di quello che sta accadendo nella politica italiana. Fino a ieri tutto fermo, tutto bene. No, tutto bene, tutto fermo. Oggi cosa facciamo? Avanti con le urne, fermo con l'Etta bis, fermo con l'Etta bis, avanti con le urne. Ma guarda che non si scrive l'Etta ma si legge. Ma si legge? Si legge Brunetta. Si scrive l'Etta, si legge Brunetta. Il punto è capire chi è il vigile, Filippo. Ecco, io no. Io no, sicuramente qualcuno potrebbe esserlo. Però, insomma, è stato un weekend in cui decisamente il barometro per il governo ha iniziato a segnare brutto. Sì, sì. Beh, il grande centro che inizia un pochettino a dare dei colpi. A traballare. Eh, le colombe che vengono atterrate dai falchi. I falchi sempre più presenti contro le colombe. Siamo proprio arrabbiati. Eh, quante percentuali daresti oggi a che il governo Letta andasse avanti fino al 2015? Fino al 2015 non lo so. Per un altro po' di mesi io penso invece di sì. Secondo me sono le stesse del 2 ottobre. Ah, uguali. Sono esattamente le stesse del 2 ottobre, possibilità. Onestamente quello che è accaduto nelle ultime giornate è la conferma di un processo che è iniziato il 2 ottobre. Che forse per assurdo lo stabilizza il governo Letta. Eh, infatti, anche secondo me. Attenzione. Non lo indebolisce, anzi. Anche secondo me. Perché il progetto del quale riparla anche questa mattina a Quagliariello, di un centrodestra più ampio, che guarda fino a scelta civica e tiene dentro Casini, è l'assicurazione sulla vita del governo Letta. Assolutamente sì. Posta la realtà del Partito Democratico è il modo migliore per andare avanti. Ma è per questo che i falchi sono tornati ad attaccare. Proprio perché è un progetto che si è iniziato a muovere. Bravo Vicaretti. No, abbiamo fatto uno più uno, eh. Non è che voglio dire... Perché noi ci arriviamo così, poco per volta, punto per punto. Poi, insomma, piccolo consiglio, quello che scrive Ilvo Diamanti stamattina. Che poi gli spazi al centro sono quelli che sono e sostanzialmente ragione fitto. Cioè che senza i voti di Berlusconi questo grande centro ha poche possibilità di diventare il primo polo. Resterà il quarto. Rischia di restare il quarto. Ed è per questo che Mauro va a pranzo con Berlusconi. È per questo che si guarda a Berlusconi come padre nobile. Perché il pallino e Alfano lo sa benissimo dei voti lo tiene ancora il cavalino. Certo, certo. Eh, e questa è la conferma che Fazio continua a invitare solo gente di sinistra, tant'è che ieri c'era fitto proprio da Fazio. È la conferma di quello che diceva Brunetta, che noi abbiamo sempre sostenuto. Chi è però in tutto questo... Diceva Brunetta dove? No, niente, diciamo così in generale. No, da Fazio. No, da Fazio, certo. Sì, sì. Chiaro. Peraltro oggi Brunetta sul giornale. L'armata rossa. L'armata rossa della Rai dice, attenzione. Allora, Alfio è molto triste in tutto questo. Intanto ha perso due big la Rai con tutta questa polemica, ha avuto questo grande vantaggio di aiutare la concorrenza della Rai perché... Eh beh, ma è un po' di tempo che fanno... Sì, infatti. C'hanno portato, qualche volta l'hanno fatte queste manovre. Perdere Crozza purtroppo non è stata una bella esperienza. E lo stesso vale per Benigni, eh. E ancora di più Benigni. Alfio però ci è rimasto male dopo aver letto i giornali di oggi perché ha paura di finire come Empi. Eh, infatti, io se fossi lui... Ma io riprenderei l'appello di Natascia che l'anno scorso aveva detto, lasciamo fare, lasciamo gli animali della compagnia fuori dalla competizione elettorale. No, soprattutto, esatto, cioè non se la prendesse con quel povero cagnolino. Guardi, se non avessi già due musi di pelo con la coda, quattro zampe piccoli, cioè inteso gatti, mi proporrei per adottare Empi. No, perché mi impietosisce quel povero cane, cioè adesso è colpa di Empi, vabbè, niente. No, beh, Empi... No, lo so, perché lei scorretta, scorretta la Bignardi a consegnare. Poteva lasciarlo lì e poteva darla a qualcun altro. Adesso non è che Empi deve farsi il capo respiatorio del fallimento politico di Mario Monti, perché questo è... Forse la risposta più bella è stata proprio quella della Bignardi che ha scritto si commenta da solo, punto, bau, su Twitter al professor Monti. Però, insomma, la preoccupazione di Alfie... E non è che quell'altro che sta ad Arcuri, se fossi lui, sarei molto... Ma guarda, io non starei molto più tranquillo. Anche Dudu può stare tranquillo. Nei suoi peni. Insomma, tra Dudu, Empi, Alfie, qui ormai sembra di stare allo zoo. Non lo so. È partita questa polemica. Per fortuna... Vedrete che tra un po' qualcuno chiederà a Renzi se ha un cane. Esatto. Roberto, per fortuna ci sono delle certezze che si giocano soprattutto su un rettangolo verde con delle cose... Ma di che fare? Ma quel gioco è vero. Al momento è vero. È vero, no? Sì, sì. La Roma capolista e l'Inter che segue... E l'Inter che si fa... Si fa poco. Si fa pochino, diciamo. Vicaretti, lo ricordiamo, interista. Sì, poco. Non lo so. Appena. Poco, certo. Qualche cromosomo. Mesto, è mesto, è mesto. Guardate che io qua ho... Non si può parlare di calcio quest'anno. No, no, no. Se ci è coltato da giallorossi. E invece voglio parlare di calcio. Vi stupirò, nonostante tutto, perché secondo me quella dell'Inter di ieri sera è stata una bellissima partita, perché ha giocato in 10-90 minuti su 90. Una bellissima partita del Torino. Beh, sì, però l'Inter ha resistito. Anzi, ha rischiato di vincere fino a un minuto. Comunque. E l'altra, la notizia è un'altra. E siccome c'è Serie Aghimaraes, oggi ve la presento con la vignetta di Sergio Staino. Che è a metà tra le due. Perché Staino dice, per Beltroni Renzi è bravo, ma gli manca profondità. Per quello si affida alla Fiorentina. E siccome la nostra Serie è grande di Fosa Viola, e siccome ieri la Viola ha fatto un risultato straordinario perché perdeva 2-0 contro la Juventus, ha vinto 4-2, io ve la introdurrei così stamattina. Ah come no, certo. Buongiorno, Serie Aghimaraes. Si addisce molto in questo frangente. Grazie, grazie. È veramente splendida, ha un bel colore. Dicevano che ieri a Firenze c'era odore d'asfalto, ma solo sulle strisce. Ah, hai capito. Incredibile. E allora che storia ci racconti questa mattina? Allora, vi racconto una storia tecnologica. Come sapete, io sono quella che segue gli eventi tecnologici, ho incontrato anche il vostro Paolo al Festival di Pisa, al Festival di Internet che c'è stato a Pisa, faceva la lotta con i robottini. Ci siamo divertiti molto. Io ho trovato questa cosa che potrebbe essere utile in diverse situazioni. Si sta cercando di portare avanti questo progetto tramite Kickstarter che è l'azionariato diffuso per far emergere un progetto che le persone condividono e quindi questo è un cuscino tecnologico. Con quello non si sente, non si vede nulla, ti tiene completamente al di fuori del mondo circostante, serve a dormire probabilmente anche ad altro. In molte circostanze serve a fare un sonnellino, piccolo riposo, nelle orari di pausa, in ufficio, a scuola, perché no? In Parlamento. Per un modesto contributo potete anche voi portare a realtà questo cuscino tecnologico che può aiutare anche in altre situazioni. Ma è incredibile! Cioè io mi metto quello in testa e dormo così, ma in piedi o posso? Ecco, c'è anche una variante, qui la potete vedere, potete usarlo anche come sciarpa e va bene anche per usarlo in aereo perché avvolge tutto il collo, lo vedete adesso? E quindi ha questa duplice funzione, può servire per attutire anche i colpi, insomma, un oggetto tecnologico di grande utilità. Beh, indubbiamente Kickstarter ci ha abituati negli anni le più incredibili trovate che poi magari una volta finanziate esplodevano oppure finivano nel nulla. Sì, è vero. Beh, incredibile, grazie Celia. Noi adesso andiamo a finanziarlo. Credo che l'avesse testato, ieri sera ha il portiere dell'Inter alla fine questo. Ah, ecco, se l'era messo nella versione sopra gli occhi probabilmente. Sì, certo. Scusate che, eh, anche se è lunedì, però. Dimitri, poi ci credo che Brunetta però se la prende con... ha ragione, scusa. Dimitri, dimmi. Ah, già con noi. Eh, ma ha ragione anche. Certo, è certo. Dimmi, non puoi togliere l'inno che almeno... Metti quello della Roma, tanto... Non lo so, ma... Allora, va bene, dai. Mi da... Ah, sei ancora ebro. È andato a vedere Albano. Ha trovato i biglietti. Va bene. Dai, allora, dammi il satellite... È logorolico, io insisto, parla troppo. Non ce le ho le foto. Contingentiamo Dimitri. Mi chiede le foto di Albano. Ma non ci sono le foto di Albano. Non ce le ho, non ce le ho, dai. Va bene, dammi il satellite, poi ti faccio il bonifico. Va bene, grazie. Ciao, Dimitri. Ciao, ciao, ciao. Va bene, chiedeva delle... C'erano delle foto degli anni Ottanta di Albano e Romina. Google, internet. Eh, ma lui non ce l'ha, è in una stazione sperduta, come quella di Lost. Va bene, 18 secondi di satellite per collegarci con Cizia Poli nella sua località misteriosa per le X News. Prego la regia di far partire il collegamento satellitare. Sì, pronto, buongiorno. Oggi abbiamo le New News, notizie nuove, nuove. L'altra notte a Milano circa 50 ragazzi sono andati sotto l'abitazione di Daniela Santanchè e Alessandro. Sallusti per urlare insulti e minacce. Forse non li hanno trovati su Facebook. Mario Monti è critico col governo di larghe intese. In economia spesso si scrive Letta, ma si legge Brunetta. Forse è il caso di scrivere un po' più in grande. Dopo la puntata di Servizio Pubblico con Michelle Bonev, Francesca Pascale chiede 10 milioni di euro. Un po' prestino per pensare al divorzio, no? E se ora la regia mi manda la grafica... Ecco qui. Operazione Verità, Berlusconi ha fatto preparare un opuscolo sui suoi processi. È un raccoglitore ad anelli. New News, settimana nuova, notizie così così. A voi la linea, grazie. Grazie Poli, torniamo allora in studio qui a Milano dove ci ha raggiunto il giudice Marco Ardemagni. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Inspiegabilmente è ilare stamattina. Infatti cos'ha da ridere? Ecco appunto. Come al solito. Poi perde il cappello e perde l'autorità. Quante volte l'abbiamo fatta questa gig del cappello? Eccola qua. Perfetto. Buongiorno. Poi non viene mai uguale, ha notato Ardemagni. Ogni volta è diversa. Penso che sia un po' di me. Ridolini. Buongiorno Roberto. Come sta il giudice? Ma insomma, ha passato una nottata un po' controversa. Lo dica, lo dica. Perché ero allo stadio a Torino e... Non dovete andare allo stadio quest'anno voi interisti, scusate. Dateci il minimo indispensabile. Ti preoccupare, Natascia, fanno di tutto per non mandarci nessuno allo stadio quest'anno. Non solo quelli dell'Inter. È vero, è vero. Esatto. Questa è altalena di emozioni comunque, cara Natascia. Ma io guardi. Allora, la prima condanna è fatta proprio per l'arbitro Doveri, l'arbitro Ieri. Ma che ha fatto? Beh, insomma, ha fatto un'espulsione. Allora, rigore c'era del Torino. Che peraltro ho sbagliato. Però non c'era Rosso Dandanovic. Ormai l'occasione era andata e poi c'erano due rigori per l'Inter. Allora, condanna per l'arbitro... Marco, dissenti. Già, almeno uno. Dissente. Vedi, vedi. Una persona seria. Anche su... Pensa, dissento anche su Rosso. Bravo, Vicareti. No, perché ormai la palla stava indirizzandosi fuori. Non l'avremmo mai più raggiunta. Questa è la condizione dei giudici che abbiamo in questo paese. Fai il fermo immagini. Poghe, rosse e nere. Caro Vicaretti, fai il fermo immagini. In quel momento, nel momento del contatto, la palla era persa. Allora l'arbitro Doveri, condannato all'apostrofo per tutta la vita, dovrà chiamarsi Doveri. Punto di domanda. Che tra l'altro è la domanda anche che va rivolta a Mazzarri. Certo. Perché Doveri poi, quando c'è stato il momento delle conferenze stampa, non c'era. Perché si deve dare una calmata lì, perché a bordo campo ogni tanto... Esatto. E poi ve la siete presa tutti col cagnolino Empi. Anzi, con Monti. E io me la prendo col cagnolino Empi. Ma no, perché? Ma che ha fatto? Allora, il cagnolino Empi, attenzione, condannato. Visto che ha fatto perdere l'elezione a Monti. Ma non è stato lui. Sono condannato a passare tutto il tempo col senatore a vita. Nel senso, a vita di Empi. Dovrà stare col senatore a vita Mario Monti. Questa è la condanna incredibile. E poi? E poi? Ultima condanna, per certi versi simile ai manifestanti di Roma. Ah, giusto. Io volevo dargli una condanna per i casini che hanno fatto, ma se la sono data da soli la condanna. Cioè? La peggiore che poteva capitargli. Martedì, dovranno vedere Maurizio Lupi. Se la sono inflitta da soli. Giudice. Ma cosa c'è di peggio? Martedì, già è martedì. Poi vedevi anche Lupi. Ma povero Lupi. Ma le pare. Io dissento dal suo prendersela con i manifestanti, comunque. Cioè, una parte di manifestanti... O con Lupi o con... No, 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 con quelli che fanno... Con quelli che fanno... Con quelli che fanno... Ma non saranno loro a incontrare Lupi. Non saranno loro. No, quindi è vero. Bisogna mandare i più violenti da Lupi perché gli altri... No, ma no, mica perché... Balla con i Lupi. Giudice. Prima di tutto. La ritroveremo alle 10 in punto su Radio 2 qui. Sempre con questa parzialità. Oggi avremo il più grande giornalista italiano sportivo di sport paralimpici. Ah, Gianni Mur... Ah, no, ok. No, sport paralimpici. Allora Claudio Arrigoni. Claudio Arrigoni, ovviamente. Grandissimo. Giocherà con noi. Ci sarà anche uno scrittore, anche oggi. Ah, bene, finalmente. Umberto Eco da noi. No, non Umberto Eco. E poi la campionessa di venerdì. È ovviamente iniziato anche il campionato di basket. Quindi una grande vittoria. Milano smetterà di sorridere anche Filippo prima o poi, quindi sappiamo... No, ma sorride intermittenza. Abbiamo vinto il derby ieri contro Varese. Sì, ma non era la prima Solibello. C'era stata prima Brindisi per Milano, se non ricordo male. Vabbè, la prima giornata non valeva perché Milano aveva perso. Quindi è iniziato ieri, ufficialmente, il campionato di basket con la grande vittoria di Milano nel derby contro Varese. Detto questo, abbiamo detto tutto. Torna la pioggia, ma che fa... No, anzi, scende la pioggia, ma che fa... Crolla tutto intorno a me. Ciao, ci vediamo domani alle 10 qua su Radio 2. Ciao, ciao a domani. Chi avete voi oggi? Allora, siccome si parla di nuova democrazia cristiana, abbiamo pensato di chiamare Paolo Cirino Pomicino. E ne parla già da tempo. È venuto da noi un paio di settimane fa a dirci, guardate, che il movimento è quello. Poi ci sarà Marcello Sorgi, Francesco Bedi Repubblica e il professor Pasquino. Insomma, cerchiamo di capire dove va la politica italiana. Qual è la rotta segnata sul navigatore? Come ha detto Ieri Monti. Questa è... Sul GPS. Temo che chioggia. Temo che quel pallo lì non lo evitiamo. Comunque, arrivederci. Arrivederci.